Non corrisponderebbe a verità la storia dell'Unità d'Italia che ci hanno raccontato finora. È quanto ha dichiarato lo scrittore Pino Aprile agli studenti dell'Unical in occasione del seminario Comunicare il Sud e dove è stato presentato anche il suo ultimo libro Carnefici. L'Italia è divisa perché sono stati unificati i confini, ma sono stati divisi gli italiani. Quindi questa operazione di cercare il luogo e le ragioni dell'incontro non è mai stata fatta in un secolo e mezzo. Chi ha tentato di farla, e sono tra i più grandi uomini che ha avuto questo paese, è stato osseggiato, emarginato, deriso. Qualcuno è stato ammazzato come Piero Gobetti, Torinese, altri come Salvemini hanno dovuto andare in esilio per evitare di fare la stessa fine. Ed è inutile fare la purtroppo lunghissima lista delle grandi anime italiane che sono state costrette al silenzio, all'inazione o alla solitudine. Cosa propone questo libro? Non avendo la dimensione di questi grandi, io ho solo il mio mestiere di giornalista. E allora mi sono detto troviamo le carte, le prove che al Sud fu compiuto il genocidio, perché si sa che è stato compiuto. Si fa finta di negarlo dicendo le carte? Tra i relatori dell'incontro, oltre al rettore dell'unica Algino Crisci, al giornalista del mattino Marco Esposito, Livia Blasi, capo servizio del TGR Calabria e segretario di giornalisti d'azione, movimento di giornalisti calabresi, tra i promotori dell'iniziativa. Questo è un libro difficile, doloroso per noi meridionali. A noi meridionali fa male, c'è un senso di tradimento nel momento in cui leggiamo un libro come questo. C'è un'idea che i fratelli d'Italia non sono stati poi purtroppo così fratelli, ma è chiaramente un libro che non vuole dividere il paese che è stato formato, ed è stato formato anche, creato anche sul nostro sangue, ma è chiaro che non si può guardare al futuro rimuovendo tanta parte di passato, tanta parte di storia. Quindi è un libro che è un imperativo assolutamente leggere, bisogna conoscere quello che c'è stato dietro, anche il nostro sacrificio, per fare l'Italia e forse per amarla anche di più.